Siamo tornati, siamo in compagnia di Monsignor Tiziano Ghirelli della Basilica di San Pietro. Si occupa dell'arte e dell'architettura, mi diceva giusto? Me lo dica lei così non sbagliamo. Buongiorno, benvenuto. Grazie, io sono canonico, appartengo al capitolo dei canonici della Basilica di San Pietro in Vaticano, ma la mia specialità è quella di occuparmi ormai da una vita, direi, del rapporto tra architettura e arti al plurale, non solo arte, e liturgia, cioè la preghiera della Chiesa. Quindi è un compito forse poco conosciuto, ma molto particolare perché consente, aiuta, favorisce la comprensione anche del patrimonio culturale della Chiesa ai fini dell'evangelizzazione, della catechesi e non solo, e non prima di tutto, ai fini estetici, museali, eccetera. Ha fatto bene a precisare e noi con lei questa mattina vogliamo iniziare a prepararci, lo stiamo facendo già da tempo perché è un anno speciale quello di quest'anno, ci stiamo avvicinando, abbiamo fatto con Giacomo, abbiamo visto che mancano 92 giorni all'apertura della Porta Santa, l'anno del Giubileo, ma io vorrei partire proprio dalle basi. Ci puoi raccontare esattamente cosa rappresenta quest'anno? Facciamolo proprio in maniera semplice. Quindi la Vigilia di Natale, il Santo Padre Francesco aprirà l'anno santo, il Giubileo, aprendo proprio fisicamente anche questa Porta Santa, che è una delle cinque porte della Basilica di San Pietro, la più defilata, la più piccola di tutte e cinque. Il Giubileo, l'anno santo, ha le sue radici in un evento, in una festa che risale agli antichi ebrei. Anche loro avevano il Giubileo, il nome stesso, no? Il Giubileo nasce e deriva dal Jobelle, che era il corno di un capro, perché anche secondo la legge di Mosè, anche gli ebrei, quindi, celebravano un anno ogni 50 anni, che sottolineava un anno di festa, ma erano liberati gli schiavi e soprattutto la terra veniva, tra virgolette, restituita al suo padrone originario, cioè Dio, e questo voleva dire lasciare la terra riposare. Di lì nasce anche il Giubileo, con un significato cristiano. Noi abbiamo la Chiesa, ecco, a traccia, a memoria, del primo Giubileo, a opera di Papa Bonifacio VIII, nel 1300. Allora, un po' di acqua sotto i ponti ne è passata. Per cercare di comprendere il senso di un Giubileo, per quale motivo la Chiesa ha deciso di indire degli anni santi, vogliamo percorrere anche quelli che sono i segni che contraddistinguono il Giubileo. Uno di questi è la Porta Santa, ce l'ha detto poco fa, e allora vogliamo tornare indietro nel tempo al Giubileo straordinario della Misericordia, quindi un anno speciale degli anni speciali, indetto da Papa Francesco nel 2015, verificatosi nel 2000, 2016, attraverso l'apertura, in quel Giubileo, delle Porte Sante. Guardiamo insieme e poi torniamo in studio. Giubileo, delle Porte Sante. Sante. Giubileo, delle Porte Sante. Giuseppe e delle Porte Sante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una delle cinque porte della basilica, preciso che tutte e quattro le basiliche patriarcali e romane, le basiliche maggiori a Roma, Santa Maria Maggiore, San Giovanni da Terano e San Paolo fuori le mura, anche loro hanno la porta santa. E anche la caratteristica delle porte sante e delle altre basiliche è essere defilata e più piccola delle altre. Allora è più piccola ed è defilata perché vuole trasmettere o vuole far sì che il messaggio per chi la varca durante l'anno santo, immaginate che la porta santa di San Pietro sarà un po' il collo di bottiglia. Fiumane di persone arriveranno e passeranno tutte di lì. Allora è più piccola perché potremmo dire che è esemplata sulla porta, l'unica e piccolissima porta di ingresso della basilica della natività a Betlemme. E uno dice perché risposta di qualcuno, ma perché a Betlemme l'hanno fatto così piccola per impedire ai persiani e gli invasori di entrare a cavallo irrispettosamente. In realtà non è così, può esserci anche questo motivo, ma soprattutto il messaggio è che a Betlemme Dio si è fatto uomo, piccolo, fragile, un bambino. Allora tu che passi dalla Varchi, la Porta Santa, ti viene chiesto, se vuoi, di recuperare in modo vero, serio, autentico, interiorizzandolo, il senso del tuo limite, della tua piccolezza. Ecco perché la Porta Santa è defilata e più piccola, anche se importante, rispetto alle altre. Monsignor Ghirelli, è importante sottolineare anche proprio la simbologia dell'attraversare, entrare, ma anche uscire poi dalla Porta Santa, perché? Questo è un tema molto caro anche a Papa Francesco, è il tema della missionarietà, che è legata soprattutto all'uscita. Papa Francesco ripete spessissimo, è importante che la Chiesa abbia le porte aperte per accogliere, ma anche per uscire per l'annuncio. Il varcare, la porta, significa anche il tema della misericordia, è un richiamo al tema della misericordia. Io credo che tutti noi siamo presi tante volte da delle paure, di vario tipo, ma non escludo che tante volte noi abbiamo paura anche di Dio. Non so che idea abbiamo nella nostra testa del Dio, così come ce l'ha presentato il Signore Gesù. E allora dobbiamo liberarci da questa paura, riscoprire che il Signore è grande nella misericordia, quindi uno dei temi importantissimi legati al Giubileo, alla Porta Santa, è anche l'indulgenza. Bonifacio VIII nel 1300 ha esaudito un desiderio, pare, del popolo di Roma che gli chiedeva insistentemente un grande perdono, perché Giubileo vuol dire misericordia, accoglienza, e dentro al perdono ci sta anche l'indulgenza. Anzi, l'indulgenza è da concepire dal punto di vista teologico come veramente un grande perdono. C'è una distinzione a proposito dell'indulgenza che è opportuno fare, che è quella fra colpa e pena, ma ce la dice fra poco, dopo la pubblicità. Va bene. Come un signor Tiziano Ghirelli a Divo Mattino, siamo canonico della Basilica di San Pietro, esperto e profondo conoscitore dell'arte presente in Vaticano. Non solo stiamo percorrendo le vie del Vaticano per cercare di entrare in punta di piedi all'interno di questo Giubileo che si profila all'orizzonte prossimo, poco immediatamente prima di Natale, e lo facciamo attraverso i segni giubilari. Abbiamo parlato delle porte sante, stavamo affrontando il tema dell'indulgenza, un tema che caratterizza pienamente gli anni giubilari, e in particolar modo una distinzione che è opportuno fare all'interno dell'indulgenza. L'indulgenza spesse volte ci è stato, ci è ricordato e verrà tantissime volte ricordato durante il Giubileo questa possibilità dell'indulgenza, ma forse siamo un po' carenti circa la necessità di entrare dentro al significato dell'indulgenza, al punto che a volte è molto facile, in buona fede, pensare che l'indulgenza sia la remissione dei peccati. Questo avviene attraverso il sacramento della penitenza, della confessione, quindi rimette il sacramento della penitenza, rimette le colpe. Poi farò un esempio, con tutti i rischi che gli esempi comportano di limitatezza, comunque. Invece l'indulgenza interviene sulla, potremmo dire, remissione delle pene. C'è distinzione tra la colpa e la pena e cercherò di chiarirlo, dicevo, con questo esempio che faccio subito. L'indulgenza ci viene offerta chiedendoci anche la soddisfazione di certe condizioni conosciutissime, la preghiera per il Papa, per la Chiesa, confessione, comunione, eccetera, eccetera. Ma interviene sulla remissione, sulla cancellazione, diciamo, delle pene. In parole povere, consapevole di affrontare, toccare in tangente un argomento delicatissimo e complicato, però uso delle parole povere per farmi capire se riesco. È come se noi vedessimo dei ragazzi che giocano a football, ma non in un campo di calcio spazioso, grande, ma in uno spazio ristretto, magari circondato anche da abitazioni private, eccetera. A un certo punto, inevitabilmente, un colpo di pallone rompe, infrange una vetrata. Il ragazzino, il ragazzo è dispiaciuto, allora chiede perdono al proprietario. Il proprietario concede il perdono, capisce, no? Ma il fatto di chiedere e ottenere il perdono non vuol dire che immediatamente viene riparato il danno. Il vetro resta rotto. No, la pena resta, viene riparata quando viene sostituito il vetro rotto. Chiedo scusa se uso questo, ma per farci capire, ecco, l'indulgenza è legata al purgatorio. L'indulgenza plenaria, grazie a una riforma che Papa Paolo VI ha fatto, non si distingue più tra indulgenza parziale. Indulgenza plenaria. Quando tu ottieni l'indulgenza, ti vengono rimesse le pene, per cui, anche qui chiedo scusa, ma se tu... Chiedo scusa anche perché mi rendo conto che un modo di ragionare e di presentare le cose così, sembra quasi che noi la facciamo da padroni nei confronti della misericordia di Dio, o ci improvvisiamo commercialisti e ragionieri, no? Le cose sono un pochino più complesse, no? Ma è come se tu, una volta ricevuta la misericordia di Dio in questa forma ampia, no? Ti capita di presentarti davanti al Signore, forse viene evitato il purgatorio. Quindi è da capire bene, da approfondire questo tema in modo da poterlo ammirare e usufruirne con grande, con grande piacere, grande riconoscenza anche nei confronti del Signore. Grazie Monsignor Ghirelli perché davvero era importante, a volte è bene anche con degli esempi perché ci aiutano a capire meglio dei concetti che sono anche difficili a volte da comprendere. Noi speriamo di poterla riospitare perché ci sarebbe ancora tanto da raccontare e noi siamo davvero contenti se tornerà per accompagnarci insieme in questo anno così importante. Grazie, grazie Monsignor Ghirelli. Molto, molto volentieri, molto, molto volentieri. Grazie, grazie, buona giornata. Noi ci spostiamo.